...dio. Purtroppo ce l'hanno mostrato come un Dio lontano, Dio Padre, un vecchio col bastone che non sappiamo cosa fa e cos'è stato il suo ruolo, Gesù, un bravo uomo, morto giovane per i nostri peccati, ma non sappiamo neanche cos'è il peccato e tantomeno sappiamo cos'è lo Spirito Santo. Però una cosa sappiamo, la vita di persone che parlavano di Lui, ma Gesù è venuto per incontrare noi, ok? Quindi stasera, qui, siamo qui per incontrare Gesù, non importa se a te, a fianco a te ci sono persone che vengono da anni oppure sei qua per la prima volta, Dio è qui per te. Tu non l'hai visto ma stava sulla porta e stava aspettando coloro che entravano perché voleva abbracciarti, ha pregato, Gesù è andato sulla croce perché tu stasera fossi qui per comprendere quanto Lui ti ama. E non è una frase fatta, ma è la verità. Se il nostro cuore batte nel petto è perché Lui ci ama. Se esistono le chiese, i tempi, i luoghi, è perché Dio li ha permessi perché le persone possono andare in quel luogo e trovare guarigione per la propria vita. Ma la chiesa non è il luogo fisico, ma la chiesa è l'insieme delle persone. Ognuno di noi, quando crediamo in Dio, ha una parte del corpo di Cristo. Ecco perché tu hai bisogno di stare nel corpo per funzionare, ma anche per ricevere. Ogni parte del nostro corpo, che sia una cellula, che sia un organo, è vero che fa qualcosa, ma è anche vero che riceve qualcosa. Quindi tutto è in equilibrio. Ecco perché è importante che tu stasera comprendi che sei qua per Lui. Le canzoni le scrivono gli uomini, ma il cuore ce lo metti tu. La parola di Dio viene scelta da un uomo, ispirato da Dio, ma la risposta la devi dare tu. Come vedete Dio ci vuole sempre partecipi. Non è un burattinaio. Lui vuole collaborare. Ecco perché, no? Genesi, Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Perché? Perché vuole avere relazione con noi. Tanto che ha mandato Gesù sulla croce, poi ne vedremo, per fare una cosa importante, per scambiare. Lui, che è Dio, si è reso uguale a noi perché noi lo potessimo comprendere. Potessimo capire come ragiona. No? E soprattutto quando vediamo quello che Gesù ha patito, ha sofferto, ha pagato, allora possiamo comprendere che lui era un uomo come noi. Anche se era figlio di Dio, non ha mai detto lo faccio con la potenza del padre mio, oppure mi rivesto della autorità di Dio. Ecco perché è venuto sulla terra. Per comportarsi alla maniera umana. Anche lui andava al bagno, anche lui mangiava, anche lui è stato preso in giro, è morto, ha lavorato, ha avuto dei genitori, ha dovuto rispettare, ha dovuto rispettare la legge. Quindi Gesù, se ci chiede di fare qualcosa a noi, è perché lui l'ha già fatta, amen? Se noi abbiamo un problema nel nostro corpo, Gesù l'ha già preso sul suo corpo. Ecco perché dice che lui ha preso su di sé le nostre infermità, i nostri castighi e le nostre maledizioni. Quando andiamo da Gesù, andiamo da qualcuno che ci può dare qualcosa di nuovo, mentre noi gli diamo tutto ciò che non va bene, tutto ciò che ci fa soffrire, tutto ciò che ci rende incapaci. Ecco perché alla fine Dio è buono. Dio non è una struttura, Dio non è una denominazione, Dio è amore e ha creato l'uomo per avere relazione con lui. Infatti, l'uomo cos'è che cerca più di ogni altra cosa? Di avere relazione con la gente, no? Nessuno vuole stare da soli, tutti hanno bisogno di un compagno, di una compagna, dell'amicizia. Infatti, Dio è trino, non è da solo. Eppure, ha voluto creare una sua creatura, l'uomo, per avere una relazione con lui. E quando noi capiamo chi è lui, chi è il nostro amico, quanto è potente, cosa può fare, ti rendi conto che non ti manca nulla, che noi possiamo cambiare la storia della nostra vita. Non importa da dove veniamo, non importa cosa abbiamo sofferto, ma cerchiamo di ragionare come ragiona lui. Dio come ti vede? Dio non vuole, tu non trovi un foglio scritto sulla sedia per fare una preghiera da ripetere come un pappagallo. Dio vuole che se stai male, vai da lui e gli dici, Gesù, io sto male, ho bisogno. E Gesù ti risponde, perché la preghiera non è un monologo. Quando parli solamente tu, si chiama monologo, ok? Ma quando parli e hai risposta, e rispondi alle domande di Dio, tu stai facendo una preghiera. Io pensavo che entravo in un posto, facevo la mia preghiera, chiudevo la porta, me ne andavo via. Quando ho scoperto che Gesù diceva, aspetta, stai qua, ascoltami, sono rimasto stupito, perché non immaginavo che Dio mi parlava. E prima di tutto, credimi, parla la tua vita, parla del tuo carattere, parla del tuo cambiamento. Poi quando ti ha sanato, ti parla per il prossimo. Quanti di voi hanno ricevuto una parola da me, che Dio mi ha dato? Perché Dio mi ha detto una cosa, digli questa a quella persona, ascolti lui, e io ripeto, io sono come quella cassa, quello che fa uscire Dio, io dico, non è merito mio, ma è perché riesco ad ascoltare. Dio ti può guidare in ogni cosa. Non è solamente, tanta gente ha l'immagine di Dio che quando ti succede qualcosa, sembra una persona normale. Eh, povero figlio mio, ti è capitato questo. Te l'ho mandata io per vedere come ti comportavi. Avete mai letto una cosa del genere? La Bibbia? Eppure tanta gente del cristianesimo pensa a questo. Gesù è venuto per dare la vita, per darla in abbondanza. Amen? Gesù è venuto per incoraggiarci, Gesù è venuto per donarci i suoi doni, allegria, gioia, pazienza, amore, mansuetudine, autocontrollo, no? Per darci la sua potenza, i suoi doni per guarire, liberare, scacciare. Vedete? Dio, un datore di lavoro, che ti dice, senti, prendi la mia Ferrari e vai, prendi la mia casa e vivi, prendi la mia vita e tienila. Quello sta dicendo Gesù. Ma ci hanno mostrato un Dio lontano e che è pronto a giudicarti, è pronto a condannarti e che ti mette i pesi e che devi fare dei sacrifici per sperare che lui cambi idea. No? Adesso ci sono un sacco di processioni, gente che porta pesi sulla schiena e poi dopo ringraziano Dio che gli è uscita l'ernia. o camminano in ginocchio per chilometri pensando che quando uscirà l'osso dalla pelle allora Dio farà il miracolo. La povertà. Vedete? San Francesco ha fatto una grande cavolata perché ha rinunciato ai soldi del padre, è diventato povero e ha predicato la povertà. Però andava a chiedere i soldi agli altri. Invece dovevi avere la tua parte e lavorare e investirla. Allora potevi aiutare di più. No? Se tu sei povero non puoi manco aiutare te stesso. Dove sta scritto? È peccato quando tu sei attaccato ai soldi che c'è la manina che non vuoi dare qualcosa a qualcuno. Quello è peccato. Ma non è peccato essere nell'abbondanza. Perché se noi stiamo bene possiamo far restare bene gli altri. Se noi siamo attaccati a certe cose allora Dio ti dice lascia e seguimi per vedere come ti comporti. Questa è la verità. Ecco noi dobbiamo confidare nella sovranità di Dio. Quando noi sappiamo chi è Gesù e cominciamo a confidare nella sua sovranità noi sappiamo che Lui provvederà a tutto quello che ci serve. tu non ti preoccupi del domani tu ti preoccupi dell'oggi però se oggi hai avuto il rapporto con Dio tu sai che Lui ti è vicino è una risposta per la tua vita ti consiglierà Lui può cambiare le situazioni oggi Lui quindi spetta a noi confidare in Lui no? E non dire Signore se vuoi Signore se puoi e oggi vi faccio vedere la storia di tre donne nella Bibbia con problemi diversi ma vediamo come Dio li risolve ora sono donne ma è chiaro che va bene anche per l'uomo uno è la storia di Rebecca chi ha fatto l'incontro per il tiro spirituale sa che era una donna che era sterile comunque per chi la vuole trovare Genesi 25 versetto 21 e mi racconto un attimo questa storia prendendo solamente lo spunto di partenza dove dice Isacco supplicò l'Eterno per sua moglie perché ella era sterile l'Eterno lo esaudì e Rebecca sua moglie concepì e Dio operò il miracolo vedete questa donna era sterile non poteva avere figli come è avvenuto il miracolo che il marito è andato da Dio e ha detto Signore io voglio una discendenza ma mia moglie è sterile quindi intervieni e lì è successo che Dio ha benedetto il ventre della donna ed è rimasta incinta ma versetto 23 e l'Eterno le disse due nazioni sono nel tuo grembo cioè stava avendo due gemelli ok e due popoli separati usciranno dalle tue viscere uno dei due popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà al minore guardate cosa dice non solo sei incinta ma hai due figli non solo sono due figli ma nasceranno due popoli però dice uno servirà l'altro anzi dice che il maggiore quello che esce prima servirà il secondo era una promessa sapete cosa fa questa donna? nascono due due figli uno è Giacobbe e l'altro Esau no? Giacobbe era il figlio di papà nel senso l'imprenditore lavoratore contadino forte cacciatore no? mentre scusate Esau mentre Giacobbe era il cocco di mamma sempre a casa pelle delicata non sapeva non sapeva cacciare non sapeva fare nulla sempre vicino alla mamma e la mamma stravedeva per lui ok? e quindi cosa fa? il maggiore Esau Esau l'uomo grosso forte doveva servire il piccolo ma lei cosa ha fatto? ha fatto un inganno per far avere la prima genitura al secondo figlio anziché al primo perché ha detto se lui avrà la prima genitura lui sarà quello che avrà l'eredità sarà il primo sarà quello che merita più di tutto perché la prima genitura voleva dire avere il doppio dell'eredità però Dio aveva detto guarda che il grande servirà al piccolo ma lei ha voluto far diventare grande il piccolo con la sua strategia e da lì nascono un sacco di problemi questo perché? perché Dio aveva parlato aveva detto cosa doveva fare Rebecca avrebbe dovuto avere fiducia in quello che Dio diceva Dio ha detto che avrebbe provveduto lui che avrebbe fatto in modo che il grande avrebbe servito il piccolo perché questa donna ha voluto disubbidire Dio e ha voluto fare a modo suo vede ci sono tante volte in cui noi cerchiamo di forzare i tempi cerchiamo di trovare la scorciatoia cerchiamo di anticipare i tempi ma Dio dice una cosa e noi invece vogliamo fare a modo nostro e poi ci lamentiamo che le cose non vanno bene se Dio ha detto no è no se Dio dice di aspettare aspetta lui sa cos'è meglio per noi in fondo a lui noi chiediamo quello che è giusto quello che ci serve però quando ci conviene o quando non ci conviene ascoltare quello che Dio dice noi facciamo a modo nostro disubbidiamo ma invece ha deciso di fare tutto a modo suo e non si fidava di che cosa della sovranità di Dio vedete tutti parlano credi in Dio sì credi che Dio è potente sì che può liberare sì che può guarire però poi dopo fai tutto a modo tuo metti che non funziona e se poi non basta e se poi non ce la faccio ecco vedete basta una parola basta un pensiero e noi annulliamo tutto quello che è la sovranità di Dio perché alla fine Dio dice una cosa e come Pietro ha risposto dopo una giornata di pesca trovano Gesù e Gesù gli dice buttate le reti e Pietro dice noi siamo pescatori da una vita abbiamo pescato tutto il giorno e non abbiamo preso nulla e tu vieni adesso e mi dici di buttare le reti però vedi anche se era stanco anche se sapeva che lui era veramente un grande pescatore ha detto ascolto Gesù e infatti dice sulla tua parola io faccio quello che tu dici ha buttato però attenzione vedete là c'è scritto Gesù ha detto buttate le reti cioè almeno due lui invece ha buttato la rete una faccio quello che tu mi dici però per tenerti contento ma non butto giù tutte le reti metto solo una che non mi puoi dire che non l'ho fatto sapete cosa succede che alla fine tira sulla rete e prende 153 pesci giganti tanto che la rete sta per rompersi se avesse messo tutte le reti non si rompeva vedete dobbiamo imparare ad ubbidire alla sovranità di Dio per fare questo dobbiamo rinnovare la mente se Dio dice che noi con i nostri figli dobbiamo inculcare la via del Signore non leggi nella tua camera ma vieni qui preghiamo insieme leggiamo insieme confrontiamoci se Dio dice che la vita è fatta prima in chiesa con la cellula con i fratelli la sottomissione il rispetto quando noi decidiamo di fare le cose in una maniera diversa cosa succede che ci mettiamo fuori dalla grazia di Dio sapete i due fratelli litigarono e il grande cercò di uccidere il piccolo tanto che dovete scappare lontano in un'altra nazione perché se no Esau avrebbe ucciso Giacobbe perché perché la madre ha voluto agevolare il piccolo non ha creduto in quello che Dio gli aveva detto ora se siamo qui è perché Dio ti ha fatto arrivare un messaggio una parola che ti ama che lui è la risposta e ti è stato detto che se tu credi nella parola di Dio tu ricevi quando tu hai questa base tu stai credendo nella sovranità di Dio cioè è quello che dice lui è indiscutibile lui ha ragione noi non stiamo scrivendo un'altra Bibbia non esiste la Bibbia degli evangelici ma esistono gli evangelici che mettono in pratica il Vangelo ok quindi tu ci puoi giudicare leggendo la Bibbia però anche noi potremmo vedere se la tua fede è basata sulla Bibbia perché è questo perché quando noi mettiamo in pratica la Bibbia noi rispettiamo la sovranità di Dio è una garanzia è come quando ti ferma la polizia e ti chiedono i documenti e tu tiri fuori e dici sovranità di Dio perché fai questo? me l'ha detto Dio viene il diavolo le tentazioni c'è scritto hai dei dubbi prendi la parola di Dio te la leggi e questa parola produce dentro di te la vittoria il cambiamento abbiamo detto che la fede viene dall'udire la parola di Dio cioè quando noi ascoltiamo noi riceviamo la fede se tu chiedi alle persone hai fede? tutti quanti sì ok da dove si vede che una persona ha fede? da come parla da quello che dice dall'atteggiamento che ha perché uno che ha fede è positivo non è negativo soprattutto quando ci sono i problemi perché è facile dire avere fede quando tutto va bene ma quando le cose vanno male è lì che noi dobbiamo rimanere fermi no? quando Pietro ha detto a Gesù sulla tua parola io getto le reti stava dicendo ok ho fede in te quindi siccome ho fede ubbidisco e faccio quello che tu mi dici cosa ci sta dicendo Dio? vedete il messaggio di domenica scorsa chi è Gesù per noi? cosa può fare per noi? cosa può impedire Gesù di fare la sua volontà di benedire di fare miracoli? è tutto collegato puoi dire che Gesù è il tuo migliore amico? puoi dire che tu hai un ottimo dialogo con lui? che tu rispetti l'amicizia? perché alla fine a parte dire sì o no tu sai che la tua vita e il tuo successo dipende da quanto tu sei collegato a Dio non alla Chiesa che poi la Chiesa è il risultato finale perché abbiamo visto che se tu ami Dio devi amare le persone se noi non amiamo le persone non credete alla gente che dice no io amo Dio però con certe persone allora tu hai un problema con Dio perché Dio ha detto che devi amare anche i tuoi nemici ok? quindi è importante ieri sera ho avuto occasione di parlare con molti e anche di pregare per qualcuno e a un certo punto ho detto a una persona guarda tu hai bisogno di ricevere ma tu hai un grosso problema tu devi far pace con qualcuno della tua famiglia perché tu stai arrabbiato e questo rancore sta producendo malattie nel tuo corpo e la moglie va già ho detto è inutile di dare i colpi se io mi permetto di dire questa cosa e ho detto anche a chi era la persona vuol dire che è vera perché Dio mi dice e mi fa vedere le cose di cui la gente ti ha bisogno ho detto se tu vuoi vedere il cambiamento la prima cosa che devi fare è perdonare chi ti ha fatto male perché non è che devi perdonare chi non ti ha fatto nulla dobbiamo imparare una cosa noi dobbiamo perdonare chi ci ha fatto del male chi ci ha ferito ok? è chiaro che c'è anche un'altra cosa certa gente dice ma tutti ce l'hanno con me non è vero è che probabilmente hai così una ferita da piccolo che ti manca l'autostima e quindi quando si parla di qualcosa che ti appartiene o che assomiglia a quello che tu hai tu pensi che stanno parlando di te ma credimi forse neanche ti stanno pensando le persone le persone che dicono non mi amano sono le persone che mettono i zizzani a più di tutti perché vogliono sempre mettere in cattiva luce gli altri perché abbiamo visto che quando le persone ricevono Gesù non si preoccupano di questa cosa perché sono così pieni d'amore che amano anche chi non ha amore ok? quindi è importante comprendere che per avere la sovranità di Dio dobbiamo essere liberi disintossicati da ogni amarezza allora Dio come una pianta mette radici dentro di noi e raggiunge ogni parte del nostro corpo ok? poi pregheremo che lo Spirito Santo ti farà vedere da dove può essere iniziato il problema con cui stai combattendo ok? e poi pregheremo per questa cosa e annulleremo il seme che ha iniziato a procurare dolore malattia frustrazione fallimento ma tutto parte da una cosa ok? e Dio ce lo farà vedere ora questa donna che ha guidato ha voluto controllare il figlio probabilmente siamo noi a casa vogliamo controllare la moglie vogliamo controllare il marito non che non ci debba essere il confronto ma controllare magari nel posto di lavoro quando ci sono le persone che vogliono controllare quindi non hanno fiducia non delegano a questo punto c'è qualcosa che non va ok? e dobbiamo lasciare il controllo allo Spirito Santo lo Spirito Santo è Dio no? lui ha le cose migliori va dove le porte si aprono dove noi non apriamo la porta lui non può entrare quindi non dobbiamo temere che accada qualcosa contro la nostra volontà Dio dice che Dio bussa e lui aprirà la porta e se noi apriamo la porta Gesù verrà abitare dentro di noi ma prima bussa cioè ti chiede il permesso anche perché quando noi vogliamo controllare le cose questo vuol dire manipolare le persone no? quelle mogli quei mariti quei genitori quegli amici forse nelle comitive non c'è quello che non fare così non andare da quell'altro cioè ti vogliono dire vogliono fare nessuno è libero di fare questo si chiama manipolare ricordate quel messaggio che spiegai che noi dobbiamo avere fiducia nella gente anche se la gente non lo merita ma perché perché abbiamo fiducia in Dio quando noi abbiamo fiducia in Dio noi abbiamo fiducia nel prossimo tu non vivi con e poi e cosa cadrà e cosa diranno di me e se mi fregheranno fregatene tu fai ciò che è giusto che non vuol dire mettere la tua vita nelle mani dello sconosciuto ma vuol dire non vivere in ansia in preoccupazione fidati se Gesù ha detto fidati di me chi crede in me non sarà deluso tutto ciò che voi mi chiederete io ve lo darò no? se voi costruite sulla mia parola è come costruire sulla roccia perché vivi una vita di ansietà fidati di Dio devi essere ansioso quando tu non sei in buona sintonia con Dio certo perché queste cose funzionano solo quando siamo tutt'uno con Gesù ok? ma vediamo un altro esempio in Esodo 1.22 quando è nato Mosè Esodo dovrebbe essere non c'è scritto lì ma Iocabed dovrebbe essere la mamma di Mosè è la mamma non dovrebbe essere 1.22 dice il faraone diede quest'ordine a tutto il suo popolo ogni maschio che nasce gettatolo nel fiume ma lasciate in vita tutte le femmine ora un uomo della casa di Levi andò presi in moglie una figlia di Levi la donna concepì e partorì un figlio e vedendo che era bello lo tene nascosto per tre mesi ma quando non poté più tenerlo nascosto prese un canestro di giunchi lo spalmò di bitume e di pece vi pose dentro il bambino e lo pose nel canneto sulla riva del fiume ora questa vediamo Mosè vuol dire tratto dall'acqua questa donna aveva partorito un figlio e a un certo punto ha dovuto fare confrontarsi con la possibilità di perdere il figlio una malattia un distacco indesiderato per motivi di lavoro quando si va via dalla famiglia un incidente stradale no? quando ci sono queste cose dove tu devi confrontarti con il pericolo con la morte allora lì tu devi cominciare ad avere rapporto con Dio e vedere come Dio può canalizzare la tua vita e cosa succede? sappiamo tutti che questo bambino viene preso addirittura non da una persona qualsiasi ma dalla figlia del faraone e quel bambino che doveva morire in realtà Dio l'ha salvato quando noi mettiamo tutto nelle mani di Dio anche quando pensiamo che sia pericoloso anche quando crediamo che forse non c'è possibilità dobbiamo fare come ha fatto questa madre ha detto io mi distacco ma signore io lo metto nelle tue mani e guardate il fiume l'ha portato verso la casa della figlia del faraone è diventato non solo quello che si è salvato dall'acqua ma quello che ha salvato il popolo di Israele vedete atteggiamenti diversi quando incominciamo ad avere fiducia quando abbiamo un rapporto con Dio le scelte che facciamo se sono guidate da Dio sicuramente portano a un esito positivo dobbiamo fare la nostra parte dobbiamo dedicarci a quello che Dio ci dice ma ciò che non è sotto il nostro controllo lo dobbiamo lasciare nelle mani di Dio ci sono tante cose nella vita che non sono sotto il nostro controllo vero o no dove noi non possiamo decidere ma se abbiamo fiducia in Dio ok io non ho il controllo ma tu hai il controllo io credo nella tua sovranità quindi metto il mio problema nelle tue mani non aspettiamo di arrivare all'ultima spiaggia Dio prima di tutto è prevenzione se noi ascoltiamo Dio a monte all'inizio tanti problemi dopo non ci sono ecco perché dice inculcate le vie del Signore ai vostri figli perché crescendo non si allontanino e purtroppo noi sappiamo che quando ci allontaniamo dalla parola di Dio iniziano i guai iniziano i compromessi iniziano l'influenza del diavolo per farci cadere per farci allontanare fino al punto di rinegare chi è Dio un altro esempio è questa vedova in prima re 17 è una vedova è in un periodo di carestia dove non è difficile trovare il cibo anzi si muore di fame in questo periodo di Israele a causa del peccato di Israele tutta la nazione stava soffrendo in prima re 17 e dice egli dunque si levò versetto 10 e andò a Sarepta come giunse alle porte della città ecco lì una vedova che raccoglieva la legna egli la chiamò e disse va a prendermi un po' di acqua in un vaso perché possa bere mentre essi andava a prenderla la chiamò e disse portami anche un pezzo di pane versetto 12 e le rispose come è vero che vive l'eterno il tuo dio pane non ne ho ma solo una manciata di farina in un vaso e un po' di olio in un orcio ed ora sto raccogliendo due pezzi di legna per andare a prepararla per me e per mio figlio la mangeremo e poi moriremo Elia disse non temere va a fare come hai detto ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela quindi ne farai per te e per tuo figlio poiché così dice l'eterno il dio di Israele il vaso della farina non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno che l'eterno non manderà la pioggia sulla terra vedete anche qui quest'altra donna sta affrontando un momento difficile della sua vita è vedova non hanno soldi è rimasta con un bambino piccolo e di più sta morendo di fame ma trova un uomo era un uomo di dio trova qualcuno che gli parla di dio infatti dice il tuo dio il tuo eterno il tuo signore e allora dice fai quello che ha detto il mio signore fai una focaccia la fai prima per me e poi la fai per te e lei dice ma basta solo per me e mio figlio mangiamo oggi poi non abbiamo più niente e aspetteremo la morte vedete quando arriva dio noi non dobbiamo aspettare la morte addirittura le dice non temere fin quando non pioverà perché aspettavano la pioggia per far di nuovo crescere il frumento il grano fare il raccolto ma quando c'è siccità non raccogli nulla e dice la farina e l'olio non finirà mai quindi quel giorno ha fatto la farina ha fatto il pane con l'olio ha preparato e da quel giorno lei ogni giorno metteva la mano in questo vaso con la paura di non trovarlo e trovava sempre la quantità giusta per fare una focaccia e versava sempre una quantità d'olio perché la benedizione di Dio non finisce mai quando noi crediamo in lui questa cosa avviene dentro di noi più noi ci avviciniamo a Dio ogni giorno più dentro di noi arriva quella fede che ci aiuta a comprendere il problema di ogni giorno e a superare il problema ogni giorno lui dice che da noi sgorgeranno fiumi d'acqua viva vedete se noi ci dedichiamo a Dio se noi ascoltiamo la sua parola noi non falliremo noi non saremo attenagliati dai problemi irrisolvibili ma con lui noi possiamo risolverli e attenzione non sto parlando solamente del tuo problema ma come tu puoi essere come Elia che porta alla gente la soluzione per cambiare la loro vita tutte quelle persone che ieri sera sono venute quelle persone nuove che hanno sentito hanno fatto la preghiera di salvezza io ho pregato ma sicuramente anche voi avrete pregato per qualcuno la loro vita da ieri sera è stata toccata in un modo diverso sai perché? perché hanno capito che noi le abbiamo dato niente di materiale ma in realtà le abbiamo dato qualcosa che è molto più ricco più potente di un oggetto abbiamo dato il Signore che è Lui che cambia la nostra storia Gesù è l'essenza che fa crescere la farina e l'olio Gesù è il cibo nel deserto Gesù è la risposta positiva è la bella notizia in tempi cattivi io non saprei come vivere anch'io avrei panico anch'io avrei ansia se non sapessi quanto è vero Gesù ecco perché io vi lancio alla sfida ma io sono con voi nelle sfide perché? perché il mio Dio è il vostro Dio il tuo problema è il mio problema io non predico la parola e me ne vado io sono qua e finora Dio è stato sempre fedele anni e anni di fedeltà di miracoli che succedono sempre quando noi ascoltiamo e mettiamo in pratica solo quando le persone disubbidiscono Dio non può fare miracoli perché Dio vuole la tua volontà vuole il tuo coinvolgimento a me? Dio non obbliga Dio è veramente un signore un amico ci abbiamo il libero arbitrio ancora oggi ma se noi mettiamo in pratica noi riceviamo il suo aiuto la fiducia è in lui e quindi la soluzione che lui ci dà serve per risolvere i nostri problemi quando noi abbiamo fiducia in lui noi risolviamo i problemi qualsiasi problema ora dobbiamo dire quanta fiducia ha in Dio quanto amiamo Dio quanto combattiamo il peccato perché la cosa principale è che non basta dire signore e signore ma dobbiamo combattere il peccato Dio non agisce nel peccato nella disubbidienza Dio è potente ma è ordinato Dio non ha due modi di pensare ne ha uno chi crede in me sarà salvato se tu credi ricevi ciò che dici ricevi non sai siccome è mio nipote è mio figlio è un amico di famiglia possiamo fai uno sconto no anche se tu sei qua con tua moglie con tuo marito con i tuoi figli ti ha portato un amico io ti dico che la risposta è una cosa personale non c'è un biglietto per due vuole che tutti siamo insieme ok ma ognuno ha il proprio nome scritto sul libro della vita non va per famiglie va per nome e quando tu accetti Gesù in quel momento stai scrivendo il tuo nome sul libro della vita ecco perché possiamo dire mio Dio mio Signore e mio Salvatore e questo è quello che serve questa donna ha cercato il suo miracolo e noi abbiamo bisogno di poterci identificare con Dio vedete Dio ha voluto essere una risposta a una donna sola vedova quasi nel deserto non c'è un posto dove lui non può arrivare non c'è un limite a quello che Dio può fare non c'è un limite siamo noi il limite che tante volte abbiamo persino paura di dire quello che Dio è o quello che può fare ma quando noi lo facciamo Dio ci benedice quando noi salviamo le persone portiamo a conoscenza Dio alle persone Dio veramente non ci permette manco più di pregare per le cose nostre e nel Salmo 37 5 dice rimetti la tua sorte nell'eterno confida in lui ed egli opererà guardate più chiaro di così rimetti la tua sorte nell'eterno cioè la tua vita metti nelle mani di Dio ma attenzione confida in lui ed egli opererà tu confida e lui lo farà purtroppo tanta gente signore signore però dopo non mette la sua vita nelle mani di Dio signore voglio fare questo però se non lo fai io faccio così no fede tu me l'hai promesso io rimango fermo e aspetto la tua risposta ok non devi avere due tre possibilità questa non è fede fede è credere in una cosa essere stabile un altro proverbio 29-25 proerbio 29-25 la paura dell'uomo costituisce un laccio ma chi confida nell'eterno è al sicuro vedete buio e luce la paura è un laccio ma chi confida nell'eterno è sicuro non c'è una via di mezzo non puoi dire credo un po' e un po' no la paura è un laccio è come un cane al guinzaglio non puoi andare oltre sei catturato ecco perché la paura si dice sei bloccato dalla paura ma la fede ti porta a camminare ti porta ad affrontare ma chi confida nell'eterno è al sicuro vedete cos'è che ti protegge cos'è che ti dà la sicurezza il fatto che tu confidi in Dio cosa fai tutto solo per la strada io non sono solo io ho il Signore ma se adesso arriva la crisi e il lavoro io confido nell'eterno Dio è la mia risposta il medico ha detto che non si può fare più nulla io credo e confido nel Signore ok è importante che comprendiamo che quando noi siamo sicuri in Lui noi cambiamo la storia avere fede non vuol dire andare a bussare alla porta della gente mi dai lavoro o fai un compromesso no Signore io voglio ciò che mi spetta io voglio ciò che è giusto io credo in Te no però e se poi non funziona la paura è un laccio ti blocca blocca i pensieri blocca il risultato blocca la vittoria ok però quando noi confidiamo in Lui noi confidiamo in quello che Dio è in quello che Dio può fare ok la scienza dice che molte malattie sono psicosomatiche ma molte malattie sono anche la conseguenza di uno stato agitato della mente dell'anima e quindi le cellule impazziscono ok le malattie sono anche la conseguenza del peccato o della maledizione o della presenza di uno spirito di infermità qualunque sia la radice qualunque sia il problema la soluzione è Gesù ogni volta che Gesù ha guarito le persone la gente lo seguiva perché l'aveva sentito predicare lui predicava dal monte e poi la gente arrivava e lui guariva e liberava ogni persona che si rivolgeva a lui quindi quando tu devi pregare per qualcuno prima assicurati che abbia capito qualcosa di Gesù ok digli il piano di salvezza perché tanta gente pensa che la preghiera è qualcosa che tu hai no preghiera è obbedienza a quello che Dio dice ma prova 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 Prova, prova, ok. Quando noi abbiamo fiducia, noi combattiamo la paura, vedete, è come un recipiente, quando noi abbiamo paura, tutto si riempie di acqua sporca e non possiamo bere. Quando abbiamo fede, buttiamo l'acqua sporca e Dio è dentro di noi e quindi possiamo bere, possiamo ricevere. Non beviamo cose che non sappiamo, Gesù ha sempre detto alle persone che si rivolgevano a lui, andava il cieco, Gesù, dice cosa vuoi? Non ti viene da dire, caspita tu sei Gesù e non vedi che io sono cieco? Andava il lebroso, che cosa vuoi? Si vede che sei il lebroso. Allora, perché Gesù diceva che cosa vuoi? Perché dalla risposta lui capisce se sei in una posizione di fede per ricevere. Vedete, il problema è quando noi non abbiamo fede, non abbiamo aspettativa e non crediamo. E mi può capire solo chi ha i problemi, perché tanta gente dice di avere fede, poi quando ha i problemi perde la pazienza, getta la spugna, se ne va, parla negativo. E no, fede è rimanere tale e quale come quando le cose vanno bene. Solo chi sta vincendo le battaglie o ha vinto le battaglie così, è un suono questa parola. Ma io ti dico che se tu credi sarai salvato. Leggiamo un ultimo versetto e poi preghiamo. Isaia 53, da versetto 2. Isaia 53, versetto 2. L'altro giorno mi chiedeva una persona, ma com'era Gesù? Cioè nel senso bello, alto, biondo, Ratzdegan, Svalzenegger, che ne so, no? Qua c'è scritto, Isaia 53, 2. Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza per farcelo desiderare. Ok? Guardate qua. Come un ramoscello che nasce dal deserto. Hai mai visto un ramoscello che nasce dal deserto? Oh? Secco. Che quando lo guardi non lo fammelo neanche guardare. Tanta gente dice, oh Gesù! Gesù come un ramo secco che nasce dal deserto. Un po' come non aveva figura né bellezza. Cioè sta dicendo, non era bello e non era una figura che tu potevi apprezzare. né apparenza che tu lo vedi. Quello è sicuramente Gesù, guarda come cammina. La ruota del pavone, no? D'altronde, figlio di Dio, no? Faceva i miracoli. Poteva, cioè qua la gente non c'è niente, li vedi ah io sì, io c'ho qua, faccio là, non c'è niente. Questo è figlio di Dio, fai i miracoli, permetti che un pochettino, no? Magari si toccava un po', lifting con il dito magico, no? Via le rughe la panzetta poteva auto-aggiustarsi alle tutti quanti adesso dai 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 imporrete le mani e gli ammalati, questi guariranno, quindi no? La potenza di Dio lui poteva farlo, era Dio ha creato tutto dal nulla però vedete passava inosservato non aveva né bellezza né figura proprio perché chi deve seguire Gesù non deve farsi un'idea che deve essere sai Gesù sulla croce l'avete mai visto, no? Una goccia qui di sangue una ferita già rimarginata qui e due chiodini nelle mani ah beh, quello ok? Mentre avete visto il film di The Passion, no? veramente era così perché adesso c'è anche scritto questa, sapete non è al tempo di Gesù è duemila anni prima è una profezia di come sarebbe stato versetto 13 disprezzato e rigettato dagli uomini imparate ogni parola perché qui è la chiave della guarigione stasera disprezzato e rigettato dagli uomini uomo dei dolori conoscitore della sofferenza quindi conosce tutta la tua sofferenza simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia perché era disprezzato e noi non ne facciamo una stima alcuna cioè proprio tu non l'apprezzavi proprio anzi guardala com'è così sarebbe stato Gesù infatti eppure guardate qua questa è la risposta eppure Egli portava le nostre malattie e si è caricato dei nostri dolori noi però lo ritenevamo colpito percosso da Dio e umiliato come se se lo meritava la giusta punizione ma Egli guardate cosa dice è stato trafitto cioè ha subito tutto questo per le nostre trasgressioni per i nostri peccati schiacciato per le nostre iniquità il castigo per cui abbiamo la pace noi abbiamo la pace nonostante il castigo è caduto su di lui e per le sue e per le sue fatto sulla croce ma questa parola è ancora prima che Gesù venisse quindi stava dicendo quando verrà Gesù accadrà questo e se farà questo e in effetti è successo adesso noi dopo la profezia ma dopo anche la storia che Gesù è venuto stiamo godendo dei benefici di quello che Gesù ha fatto confidiamo nella sovranità di Dio lui ci ha messo al mondo lui ci ama e se siamo furbi accettiamo di camminare con lui noi saremo sempre con lui ma è il bello di questo sapete io sono molto pratico da far paura quasi io credo in quello che c'è scritto ma ho creduto perché ho visto io ho visto miracoli accadere ho visto il sopranaturale ho sentito la voce di Dio sento la voce di Dio vedo lo spirito muoversi quindi io non ho dubbi non ho nessunissimo dubbio che esiste che è potente che è vero ok io credo nella sovranità di Dio ed è per questo che vi parlo con convinzione io non te la butto lì vedi come il dottore tante volte il dottore fai questa ricetta se va bene se no ci sentiamo tra due settimane e prendi quest'altra se non va bene e prendi quest'altra no io so che quello che noi diciamo nel nome di Gesù accade Gesù è venuto per confermare la sua parola ogni volta che accade quello che è stato detto la gloria va a lui non è a me io non c'entro io sono come quella cassa dico la parola di Dio ok l'unica responsabilità è di non insegnarvi cose che non siano scritte perché se voi prendete l'ultimo versetto l'ultimo capitolo dell'ultimo libro della Bibbia dice finisce così la Bibbia che se noi spostiamo una sola virgola iota sarebbe a noi capiteranno le cose scritte in questo libro allora io non voglio farmi bello al prezzo della maledizione della mia vita ok quindi ti consiglio di non dire mai cose diverse da quelle scritte e se ti beccano in castagna nel senso che stai facendo nel modo sbagliato digli io sto sbagliando ma la Bibbia dice così non cercare di aggiustare la Bibbia per coprire il tuo peccato perché allora ti infili in una strada di guai conoscerete la verità e la verità vi farà liberi la maggior parte di noi la maggior parte della gente è inguaiata in tutti i sensi nella mente nel corpo nella vita nel lavoro perché perché non sa cosa è Gesù come funziona e quindi fa tutti i compromessi non ha la forza di reagire perché ha paura di quello che dirà la gente ha paura di non farcela abbiamo letto che la paura è un laccio ma chi confida nell'eterno è sicuro ha la vittoria quindi adesso pregheremo chiederemo allo Spirito Santo di farci vedere le cose che non vanno oppure quelle le sappiamo ma chiederemo a Dio di farci vedere quando sono iniziate nella nostra vita in modo che andiamo a buttarle via andiamo a chiedere perdono se abbiamo sbagliato e cominciamo una nuova vita da stasera ok siete pronti avete fede scusate l'ho vista quanti hanno fede siete pronti a ricevere non importa se io vedo non vedo le mani Dio vede le tue mani e Dio risponde alla tua fede se tu hai fede al 40% sappi che ricevi il 40% ok ma io voglio il 100% come devo fare chiedi a Dio di darti l'altro 60% ok non aver paura non aver vergogna signore sono qua in questo momento siamo nel luogo più importante che potremo mai essere nella nostra vita cioè davanti alla presenza di Dio ok non è il luogo ma è la presenza di Dio qui nelle luci rimani pure seduto adesso prendiamo un tempo voglio che tu possa chiudere i tuoi occhi non ascoltare a fianco spegni il telefonino non mangiare adesso le caramelle che fanno rumore non mettere a posto la borsetta questo è il tuo momento Dio ha parlato adesso sei tu che devi rispondere Spirito Santo ti chiedo nel nome di Gesù tu sai il problema di ognuno di noi in questo momento c'è chi si sente solo chi ha paura chi ha ansia chi sta lottando per il lavoro per le finanze chi sta lottando nella famiglia nel matrimonio chi ha problemi con dei figli o con dei genitori tutte queste cose purtroppo sono la conseguenza ci sono dobbiamo vivere su questa terra fin quando Gesù tornerà ma tutto quello che sta diventando un'oppressione un ostacolo non vengono da Dio adesso chiedo a te Spirito Santo nel nome di Gesù che ognuno di noi chiude i propri occhi e che Dio ti faccia vedere da quando è iniziato questo questo turbamento questa oppressione che Dio ti faccia vedere che cosa ha cominciato a scatenare dentro di te un'insicurezza da quando hai forse la cosa che hai adesso forse una volta ne avevi solo il pensiero la paura ma come abbiamo detto la paura ti ha bloccato in Giobbe dice quello che temevo quello mi è accaduto quello di cui avevo paura quello mi ha schiacciato vedete Dio sta dicendo stasera io voglio che ognuno di voi mi dà tutta la malattia tutta la paura tutta la maledizione Gesù su quella croce quando pensiamo a Gesù quello è andato a fare è andato a prendere il nostro posto infatti abbiamo letto il castigo che noi meritavamo è caduto su di lui ha fatto un po' da parafulmine e io ti voglio incoraggiare in questo momento la tua vita deve essere benedetta da stasera tu sarai una persona intelligente capace ma ti dico una cosa davanti a Dio tutto questo non è nulla tu devi avere fiducia devi confidare nella sovranità di Dio quella donna stava morendo nel deserto con il suo figlio quella donna pensava nonostante aveva ricevuto figlio da Dio perché era sterile ha pensato poi di fare di controllarlo da sola e non ha creduto in quello che Dio diceva e si è trovata nei guai per questo abbi il coraggio di dire signore stasera io voglio darti la guida della mia vita nel nome di Gesù voglio che tu ti metti tu al posto di guida io mi metto a fianco guida tu portami con te e da questo momento voglio comandare ad ogni pensiero che non viene da Dio ad ogni preoccupazione che non viene da Dio ad ogni paura che cerca di seminare insicurezza tu avresti voluto parlare con delle persone forse in casa tua forse nel posto di lavoro ma non hai parlato perché la paura tu non devi gridare tu non devi alzare le mani tu non devi minacciare ma non è giusto che tu abbia paura nel nome di Gesù noi siamo figli di Dio noi possiamo cambiare la storia della nostra vita non guardare non guardare a fianco a te guarda a te Dio ti ha portato qui stasera per parlarti personalmente forse sei stanco forse sei stressato forse sei rassegnata ma io ti dico alzati e cammina nel nome di Gesù e da questo momento Spirito Santo io ti chiedo di mostrare ad ognuno di loro un episodio particolare da dove è successo qualcosa e se tu noti quello che stai vedendo quello che stai per vedere ha contribuito a creare un malessere fino ad arrivare ad oggi nel nome di Gesù Spirito Santo fagli vedere chiudi i tuoi occhi non ti preoccupare puoi vederlo come non puoi vederlo ma chi lo vede sa che cos'è sa di cosa sta parlando forse l'insuccesso del tuo matrimonio forse il non realizzare mai portare a termine qualcosa nella tua vita forse scappare davanti alla realtà agli affetti forse c'è gente che non ha amici ha conoscenti perché perché c'è qualcosa dentro di te e Dio non ci vuole così Dio ci vuole completi pacifici gioiosi coraggiosi amorevoli vedi Dio non ti chiede di fare qualcosa Dio ti vuole far vedere dove Lui vuole agire stasera nella tua vita tu non puoi tornare a casa con dei pesi su di te figlio mio figlia mia non nascondere il tuo dolore non nascondere il tuo peso non importa quanti anni hai non importa se ti sei sposato da poco o sono anni se c'è qualcosa nella tua vita che non ti rende felice in questo momento Dio ti faccia vedere qual è la causa affinché poi quando pregheremo lo getteremo via nel nome di Gesù amè cogli l'occasione per fare pulizia dentro di te rabbia rancore amarezza Dio mi sta facendo vedere che c'è una persona qua che ha paura ma questa paura che oggi magari è per una cosa specifica in realtà tu sei stata sempre una persona con un margine di paura e la paura non viene da Dio la paura toglie la gioia toglie la prospettiva la paura è l'esatto contrario della fede oh spirito santo oh spirito santo ti chiedo di muoverti in questo momento nel nome di Gesù guarda siamo tutti figli di Dio Dio non fa preferenze non importa se sei qui da anni o oggi è la prima volta che sei qua Dio ti sta parlando e sta mettendo la sua mano delicata dentro il tuo cuore lì dove si nasconde tutto vedo cuori pieni di amarezza cuori che hanno come dei nodi dentro di vecchia data non puoi vivere così non devi vivere così ok hai sbagliato ma non permettere che la tua vita futura sia legata dal passato nel nome di Gesù ricevi la pace di Dio su di te Spirito Santo ti prego scendi in profondità con il tuo balsamo con la tua guarigione con il tuo abbraccio d'amore oh Spirito Santo oh Spirito Santo guarisci che la guarigione incomincia a scendere incomincia a scendere come olio sul tuo capo ed entra nei tuoi pensieri nel tuo cuore e sta cominciando a toccare il tuo corpo ci sono delle persone qui che stanno sentendo un calore sul loro corpo finora Spirito Santo Spirito Santo Spirito Santo Spirito di Dio non per forza non per potenza ma per lo Spirito di Dio muoviti guarisci oh Signore guarisci i cuori feriti in questo momento i cuori desolati nel nome di Gesù non abbiamo mai un tempo dove ci fermiamo e andiamo da Lui ma stasera lo stiamo facendo svuota il tuo cuore diglielo Signore tieni tutta la mia rabbia forse Dio ti sta facendo vedere il tuo peccato digli Signore ti chiedo perdono ecco il mio peccato non lo farò più rinnova la mia mente vieni Signore il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo cioè dove viene ad abitare Dio nel tuo corpo e come vedi prima di entrarci sta scendendo e liberando la tua anima il tuo cuore la tua vita oh Spirito Santo abbiamo bisogno di Te oh Spirito Santo ti chiedo di guarire ti chiedo di toccare nel nome di Gesù questo popolo ha bisogno di Te forse qualcuno era come quella donna nel deserto forse era agli ultimi sgoccioli ma stasera moltiplica la vita su di noi nel nome di Gesù vita su di noi guarigione su di noi benedizioni su di noi chiedila Signore sono qua voglio Te non me ne frega della religione non me ne frega del nome io voglio Te nel nome di Gesù oh Spirito Santo tu sei più importante di ogni cosa per noi io so che stasera sta cambiando il destino di molte persone qua stasera ogni peso abbandoni la tua vita ogni catena sia spezzata ora nel nome di Gesù tutto quello che ti ha bloccato di cantare lodare il Signore di camminare per fede per coloro che non hanno mai avuto veri amici che si sono sempre guardati alle spalle da stasera avrai molti amici se fino adesso ti guardavi alle spalle con la paura che qualcuno potesse ferirti parlare male tradirti Gesù sarà la guardia delle tue spalle nel nome di Gesù ora pensa al tuo futuro e dichiaralo io vivrò nel tuo nome io farò cose che in questo momento non riesco neanche a pensare quando saranno grandi dichiaralo perché io da stasera vado a casa con Gesù e nessuno me lo può togliere e non è portando una croce al collo e non è facendo vane ripetizioni ma lasciandomi guidare dallo Spirito Santo vieni Spirito Santo convinci convinci in questo momento che tu da questo momento addirittura potrai vederti come una persona migliore dentro e fuori nel nome di Gesù che si è tolta ogni insicurezza che si è tolto ogni intoppo nel nome di Gesù guardate lo sta facendo io so che lo sta facendo io vedo che lo sta facendo alcuni di voi stanno dicendo ma cosa mi sta succedendo ma stai sentendo che il tuo cuore si sta alleggerendo da ogni peso abbiamo bisogno di te Signore questo è quello che portiamo quando predichiamo Cristo nella vita della gente questo succede quando nelle nostre case adoriamo il Re del Re questo succede quando noi portiamo Gesù nelle nostre attività nel nostro paese Dio ti ha scelto per essere una luce la tua vittoria il tuo cambiamento la tua guarigione dà gloria a Gesù e come vedi non lo meritavamo siamo venuti qui forse senza aspettative forse con della speranza ma usciamo con la certezza Gesù lo ha fatto quello che noi abbiamo pregato quello che abbiamo ricevuto Gesù l'ha fatto duemila anni fa stai sentendo la presenza di Dio che sta venendo da te su di te stai sentendo come Dio non mette pesi ma toglie pesi lui ti sta chiamando per nome Dio sta elogiando le tue qualità Dio non ha un'altra persona uguale a te Dio ha creato una persona nuova come te per questo Signore ti voglio lodare ti voglio benedire per quello che stai facendo nel nome di Gesù vieni Padre vogliamo ringraziarti vogliamo benedirti ora voglio pregare per le persone che hanno bisogno di guarigione che ha bisogno di guarigione venga avanti alziamoci in piedi così chi deve uscire dalla fila può farlo tranquillamente ma continuiamo a pregare nel nome di Gesù nel nome di Gesù Signore voglio pregare per la tua guarigione nel nome santo di Gesù Cristo per le tue levidure lei è stata guarita viene Spirito Santo nel nome di Gesù vieni Signore vogliamo dichiarare la tua guarigione la tua vittoria la tua benedizione nel nome di Gesù vieni Padre nel nome santo di Gesù guarda guarigione 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 nel nome di Gesù Nel nome santo di Gesù, nel nome santo di Gesù. Nel nome di Gesù, per le tue levidure, noi siamo stati guariti, non saremo, siamo stati guariti. Da questo momento è iniziata già la tua guarigione miracolosa, nel nome di Gesù, per fede in Lui. Lui non guarisce solo il corpo, ma guarisce la mente, l'anima e lo spirito. Ogni cosa, perché la tua guarigione è la gloria di Dio. Nel nome di Gesù, ricevi la tua guarigione. Nel nome di Gesù, per le sue levidure, ricevi guarigione. Ricevi guarigione. Comando ad ogni infermità di abbandonare in questo momento il tuo corpo e ad ogni cellula di funzionare, di riprendere a funzionare nel nome santo di Gesù. Nel nome di Gesù, noi veniamo guariti per fede, per fede, non perché lo meritiamo. Ogni cosa è possibile che crede, per le tue levidure, lei è stata sanata, nel nome di Gesù. Padre, nel nome di Gesù, voglio pregarti per la guarigione. Guarigione nel nome di Gesù. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Signore. Vieni, Signore. Comando ad ogni parte del suo corpo, di riprendere a funzionare. Comando ad ogni infermità, di abbandonare in questo momento nel nome di Gesù. Vieni, Signore.